La regione Sicilia può fare e non fa, anzi proprio il governo regionale scarica le responsabilità su Roma, sui tanti ministeri. La denuncia porta la firma di Cigel Cisle Will in merito all'avvertenza Gela. Nell'ultimo incontro, datato 24 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico, il verbale redatto dei presenti sottolineava che per quanto riguarda la problematica degli ammortizzatori sociali, il vice ministro Bellanova ha confermato quanto già detto in occasione dell'incontro con le istituzioni siciliane, ovvero che la parte preponderante della problematica riguardante gli ammortizzatori sociali dell'indotto verrà affrontata in ambito regionale. I rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico incontreranno inoltre le imprese dell'indotto che si trovano in situazioni critiche al fine di verificare ogni possibile intervento a sostegno di quest'ultime. Dal 24 febbraio è già passato quasi un mese e i sindacati confederali e la Prevettura continuano ad inviare richieste di incontro e note specifiche riferite alla evidente scopertura finanziaria che tanti lavoratori stanno subendo in materia di fruizione degli ammortizzatori sociali. Che senso ha il convincimento operato dal sindacato nei confronti degli imprenditori di evitare licenziamenti e percorrere la strada della Cassa Integrazione straordinaria o in deroga se poi la Regione, tornando da Roma, sceglie la via della latitanza? I segretari confederali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania hanno denunciato il silenzio della politica ed oggi, malgrado il buonsenso da parte di centinaia di lavoratori dell'indotto, annunciano azioni di protesta su Palermo subito dopo le festività pasquali. La lotta dei lavoratori, la loro pazienza, il buonsenso di alcuni imprenditori, il puntuale lavoro della Prefettura non possono ricevere la distanza istituzionale del Governo regionale, che in questa complessa vertenza sta dimostrando inaffidabilità e colpevole disattenzione. Tutti, ribadiscono Cigelle e Cisle Will, devono rendersi conto e prendere coscienza della disperazione presente in migliaia di famiglie già in crisi per carenza lavorativa ed oggi classificabili come nuovi poveri. I sindacalisti poi pongono alcuni interrogativi. La Regione può permettersi di non considerare la vertenza Gela tra le più drammatiche nell'ultimo ventennio nel Sud Italia? Può la stessa Regione costringere lavoratori e sindacato a manifestazioni estreme che rischiano di compromettere l'ordine pubblico? Può la Regione ledere la dignità di tanti uomini e tante donne in attesa di risposte concrete? Il silenzio del Governo regionale fa sorgere altre domande. Forse non esistono le somme stanziate da parte del Governo regionale riferite agli ammortizzatori sociali? Se così fosse, chiudono i sindacati. Perché lo stesso Governo non ha detto nulla durante la riunione del 24 febbraio al Ministero? Questo atteggiamento inquieta il sindacato confederale che pretende dal Governo una risposta chiara, così da comprendere quale strada intraprendere per tutelare il reddito di centinaia di lavoratori.